Immaginate di trovarvi in una taverna medievale, illuminata dalla luce tremolante delle candele. Un vecchio cantastorie si schiarisce la voce e inizia a narrare una storia che ha affascinato generazioni. La leggenda del Santo Graal. Ma cos'è esattamente questo oggetto misterioso che ha catturato l'immaginazione di milioni di persone per secoli? Il Santo Graal, secondo la tradizione, sarebbe la coppa utilizzata da Gesù Cristo durante l'ultima cena. Alcuni dicono che Giuseppe d'Arimatea l'abbia usata per raccogliere il sangue di Cristo durante la crocifissione. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di una coppa? Le origini di questa leggenda sono avvolte nella nebbia del tempo, mescolando elementi cristiani, pagani e celtici in un intricato arazzo di mito e realtà. Nella tradizione celtica, per esempio, troviamo il calderone dell'abbondanza, un oggetto magico capace di fornire cibo e bevande infinite. Potrebbe essere questo l'antenato pagano del Graal cristiano? Nei racconti arturiani, il Graal assume un ruolo centrale. Si narra che solo il cavaliere più puro di cuore possa trovarlo, conferendo al suo possessore saggezza, felicità e vita eterna. Ma perché proprio una coppa? E se il Graal fosse in realtà un simbolo di qualcosa di più profondo e misterioso? Man mano che la leggenda si diffondeva in Europa, ogni cultura aggiungeva il proprio tocco alla storia. In alcune versioni il Graal era una pietra caduta dal cielo, in altre un libro di saggezza antica. Questa molteplicità di interpretazioni ci fa domandare, il Graal è un oggetto fisico o un concetto spirituale. Mentre ci addentriamo nei meandri di questa leggenda millenaria, una domanda continua a risuonare. Il Graal è mai esistito veramente o è solo il frutto della nostra eterna ricerca di significato e trascendenza? Nel corso dei secoli, la ricerca del santo Graal ha spinto re, cavalieri e avventurieri a intraprendere viaggi epici. Ma chi erano questi cacciatori del Graal e cosa li spingeva in questa ricerca apparentemente impossibile? Una delle figure più affascinanti legate alla ricerca del Graal è Enrico II d'Inghilterra. Nel XII secolo, questo potente monarca finanziò spedizioni in Galles e in Scozia, convinto che il Graal fosse nascosto in qualche remota abbazia o castello. Ma cosa sperava di ottenere davvero Enrico? Potere politico o dimensione spirituale? Le crociate, oltre al loro scopo religioso e politico, furono anche un'opportunità per molti di cercare il Graal in Terra Santa. Cavalieri provenienti da tutta Europa si avventurarono in Medio Oriente, sperando di tornare non solo con territori conquistati, ma anche con il prezioso artefatto. Ma quante di queste ricerche erano motivate dalla fede e quante dalla sete di gloria e ricchezza? Uno dei luoghi più intriganti associati al Graal è l'abbazia di Glastonbury in Inghilterra. Nel 1991 i monaci dell'abbazia annunciarono di aver trovato le tombe di re Artù e della regina Ginevra. Questo ritrovamento alimentò le speculazioni che il Graal potesse essere nascosto nelle vicinanze. Ma era una vera scoperta o un'abile mossa pubblicitaria medievale? Non possiamo parlare della ricerca del Graal senza menzionare i misteriosi cavalieri templari. Questo potente ordine religioso militare è stato a lungo associato al Graal. Si dice che lo abbiano trovato durante le crociate e lo abbiano portato in Europa. Ma cosa successe quando l'ordine fu brutalmente soppresso nel 1307? Il Graal scomparve con loro o fu nascosto in un luogo sicuro? Un altro luogo chiave nella ricerca del Graal è la fortezza di Montsegur nel sud della Francia. Ultimo baluardo dei Katari, una setta cristiana considerata eretica, Montsegur cadde nel 1244 dopo un lungo assedio. Leggende narrano che, poco prima della caduta, un piccolo gruppo di Katari fuggì con un misterioso tesoro. Poteva essere il Graal? Mentre esploriamo queste storie di ricerca e avventura, non possiamo fare a meno di chiederci cosa spingeva davvero questi uomini e donne a dedicare le loro vite alla ricerca di un oggetto così elusivo? Era semplice avidità? Profonda fede religiosa? O forse la ricerca di un significato più profondo dell'esistenza stessa? Il fascino del Santo Graal va ben oltre la sfera religiosa storica. Ha ispirato alcune delle più grandi opere d'art e di letteratura di tutti i tempi, permeando profondamente la nostra cultura popolare. Ma come si è evoluta la rappresentazione del Graal nel corso dei secoli? Nei poemi medievali di Chrétien de Troyes, il Graal fa la sua prima apparizione letteraria come un misterioso oggetto portato in processione. Ma è con Sir Thomas Mallory e il suo Le morte d'Arthur che la leggenda del Graal raggiunge il suo apice letterario medievale. Come ha influenzato quest'opera la nostra percezione moderna del Graal? Nell'arte visiva, il Graal ha ispirato innumerevoli artisti. Pensiamo ai pre-raffalliti come Edward Bernard Jones, le cui opere The Last Sleep of Arthur in Avalon e The Achievement of the Holy Grail catturano l'essenza mistica della leggenda. O consideriamo l'enigmatico dipinto di Salvador Dalì, The Sacrament of the Last Supper, dove un calice traslucido domina la scena. Come hanno questi artisti plasmato la nostra immagine mentale del Graal? La musica non è stata immune al richiamo del Graal. L'opera Parsifal di Richard Wagner, basata sulla leggenda del cavaliere in cerca del Graal, è considerata uno dei capolavori del compositore. Come ha Wagner tradotto in musica il misticismo e la spiritualità associati al Graal? Nel cinema, il Graal ha avuto un ruolo di primo piano in molti film. Chi può dimenticare la memorabile scena finale di Indiana Jones e l'ultima crociata, dove il protagonista deve scegliere il vero Graal tra decine di calici, o il tono più umoristico di Monty Python e il sacro Graal? Come hanno questi film influenzato la percezione popolare del Graal? La letteratura moderna ha continuato a esplorare il mito del Graal in modi nuovi e intriganti. Dai romanzi di Mary Stewart, che reinterpretano la leggenda arturiana, ai bestseller di Dan Brown, che mescolano il Graal con teorie del complotto moderne. Come si è evoluto il concetto del Graal per adattarsi alle sensibilità contemporanee? Nei videogiochi e nei fumetti, il Graal appare spesso come un potente artefatto magico, oggetto di epiche quest. Questa rappresentazione più fantasy del Graal, quanto si discosta dalla sua origine spirituale. Mentre riflettiamo su queste diverse rappresentazioni artistiche e culturali, sorge una domanda. Perché il Graal continua ad affascinarci così tanto? È il suo simbolismo spirituale il richiamo dell'avventura? O forse rappresenta qualcosa di più profondo nella psiche umana? La nostra eterna ricerca di significato e trascendenza? Non tutti credono che il Santo Graal sia un oggetto fisico. Nel corso dei secoli sono emerse interpretazioni alternative che vedono nel Graal un simbolo di conoscenze segrete o percorsi spirituali. Ma quanto sono plausibili queste teorie e cosa ci dicono sulla nostra ricerca di significato? Una delle teorie più controverse è quella del sangue real o sangue reale. Secondo questa interpretazione, popolarizzata da libri come Il Sacro Graal di Michael Bagant, Richard Lee e Henry Lincoln, il termine sangue reale. Santo Graal in antico francese sarebbe in realtà un gioco di parole. Sangue reale significherebbe sangue reale, riferendosi non a una coppa, ma alla presunta discendenza di Gesù Cristo. Questa teoria suggerisce che Gesù avrebbe avuto dei figli e che la sua stirpe sarebbe stata protetta attraverso i secoli da società segrete. Ma quali prove supportano questa audace affermazione? Nel mondo dell'alchimia, il Graal assume un significato completamente diverso. Gli alchimisti vedevano nel Graal un simbolo della pietra filosofale, la sostanza leggendaria capace di trasformare i metalli in oro e conferire l'immortalità. In questa interpretazione, la ricerca del Graal diventa una metafora della trasformazione spirituale e della ricerca dell'illuminazione. Ma come si collega questa visione esoterica alle origini cristiane del mito? La tradizione celtica offre un'altra prospettiva interessante. Alcuni studiosi hanno collegato il Graal al Calderone di Dagda, un oggetto magico della mitologia irlandese che poteva guarire i feriti e resuscitare i morti. Questa connessione suggerisce che il mito del Graal potrebbe avere radici pre-cristiane, ma come si è evoluto da simbolo pagano a icona cristiana. Alcune interpretazioni più moderne vedono nel Graal un simbolo di conoscenza antica perduta. C'è chi sostiene che il Graal contenga segreti scientifici avanzati, forse persino di origine extraterrestre. Altri lo collegano a luoghi di potere energetico sulla Terra. Quanto sono credibili queste teorie e che ci dicono sul nostro desiderio di trovare risposte a domande fondamentali sull'universo? Nel campo della psicologia, Carl Jung vedeva nel Graal un potente archetipo dell'inconscio collettivo, rappresentante la ricerca dell'integrità psichica e spirituale. Questa interpretazione sposta il focus dalla ricerca esterna a quella interna. Il vero Graal sarebbe quindi dentro di noi? Mentre esploriamo queste diverse interpretazioni, emerge una domanda fondamentale. Il vero valore del Graal sta nella sua esistenza fisica, o nel significato che gli attribuiamo. Forse, come suggeriscono molte di queste teorie, la vera ricerca del Graal è in realtà un viaggio di scoperta personale e spirituale. Nell'era di Internet e della tecnologia avanzata, la ricerca del Santo Graal ha assunto forme nuove e sorprendenti. Ma come si concilia questa antica leggenda con il mondo moderno? E cosa ci dice sulla nostra società contemporanea? Le ricerche archeologiche moderne hanno portato nuova luce e nuove domande sulla possibile esistenza fisica del Graal. Nel 2014, due storici spagnoli annunciarono di aver identificato il vero calice nella Basilica di San Isidoro a León. La loro teoria si basa su un'analisi dettagliata di documenti antichi e moderne tecniche di datazione. Ma quanto sono affidabili queste scoperte? E come reagisce la comunità scientifica a tali affermazioni? La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nella ricerca del Graal. Scansioni thread di antichi manufatti, analisi spettroscopiche di materiali e tecniche di imaging avanzate stanno permettendo agli studiosi di esaminare reperti storici con un livello di dettaglio prima impossibile. Ma queste tecnologie ci stanno avvicinando alla verità sul Graal? O stanno solo aggiungendo nuovi strati di complessità al mistero? Internet e i social media hanno rivoluzionato il modo in cui le teorie sul Graal si diffondono e si evolvono. Forum online, video su YouTube e post sui social media permettono a chiunque di condividere le proprie idee e teorie sul Graal con un pubblico globale. Questo democratizza la ricerca o crea solo più confusione? Come possiamo distinguere tra teorie plausibili e pura speculazione nell'era della post-verità? Nel mondo moderno il concetto del Graal ha assunto nuovi significati metaforici. In ambito aziendale si parla di santo Graal per indicare un obiettivo ambizioso e apparentemente irraggiungibile. Nella scienza la ricerca di una teoria del tutto che unifichi tutte le forze fondamentali della fisica viene spesso paragonata alla ricerca del Graal. Come si è evoluto il significato simbolico del Graal nella nostra società? C'è chi vede nella ricerca moderna del Graal un riflesso della nostra insoddisfazione con il materialismo e il razionalismo estremo. In un mondo sempre più secolarizzato la leggenda del Graal offre un tocco di magia e mistero. Ma è questo un ritorno alla spiritualità o semplicemente una forma di escapismo. Infine dobbiamo chiederci quale ruolo gioca il Graal nella nostra ricerca personale di significato? In un'epoca di rapidi cambiamenti e incertezze la leggenda del Graal continua a offrirci una metafora potente per la nostra ricerca di scopo e trascendenza. Mentre il mistero del Graal continua a evolversi nell'era digitale una cosa rimane chiara. Questa antica leggenda ha ancora il potere di catturare la nostra immaginazione e spingerci a guardare oltre la superficie delle cose, alla ricerca di un significato più profondo nella nostra esistenza.